Ben trovati di nuovo a questo terzo appuntamento sugli europei di calcio, stiamo facendo questa trasmissione itinerante e oggi ci troviamo al Lido Il Pontile di Pino Travaglini, un volto conosciuto sicuramente agli sportivi vastesi che salutiamo, buongiorno Pino, allora non per parlare di calcio locale ma perché abbiamo ideato questa trasmissione proprio per parlare delle gare di ieri, degli europei, quindi gli europei di calcio visti dai vastesi o perlomeno dagli addetti ai lavori della nostra città. Partiamo con la tripletta della Spagna alla Turchia, un 3 a 0 con doppietta di Morata che comunque regala alle Furie Rosse la qualificazione al prossimo turno così come è accaduto già per l'Italia e per la Francia, quindi tre squadre importanti che con due vittorie a testa sono già riuscite a passare il turno, forse prevedibile per le prime due e un po' meno per l'Italia che eravamo un po' tutti scettici no? Vabbè la Spagna non fa notizia perché il tasso tecnico tra le due squadre, tra la Spagna e la Turchia c'è un abisso, è notevole, quindi era un risultato scondato, diciamo anche se nel calcio nulla è scondato perché le altre nazioni stanno crescendo negli ultimi dieci anni, sono saliti parecchio con l'avvento dei tecnici europei nelle zone un po' più arretrate calcisticamente. La Francia l'ho vista soffrire, però comunque ogni manifestazione soffre all'inizio, astendo a raggiungere le sue qualificazioni, però poi alla fine il tasso tecnico esce fuori e va in fondo fino alla fine. Stanno deludendo qualche giocatore della Francia, ma usciranno al più presto. L'Italia, siamo andati all'Europeo con un attacco secondo i media di terza fascia, anche se molte volte i giocatori di terza fascia fanno la differenza perché voi siete più giovani, ma ricordiamo Paolo Rossi, ricordiamo Bergome, ricordiamo Cabrini, ricordiamo gente che hanno esordito giovanissimi a 18 anni nelle competizioni europee e mondiali e poi ci hanno permesso di raggiungere obiettivi importanti. Il gioco di Conte è quello, fa leva su una difesa juventina che lui ha già allenato qualche anno fa con un modulo 3-5-2 che poi in fase di ripiegamento si trasforma in un 5-3-2. Ha inventato i due esterni Candreva e Parolo che il nostro campionato ci offre e davanti io se fossi stato il tecnico avrei optato per coppie di attaccanti tipo Immobili, Inzigni e Zazza, però lui ci vede sempre bene perché ha tirato fuori dal cilindro questo header che fa gol, bisogna dargli atto che ha ragione. Pio sempre più tecnico entra nei dettagli, anche nelle analisi tecnico-tattiche delle squadre, tanti anni che fa calcio. Invece un'altra partita è stata quella del 2-2 tra Repubblica Ceca e Croazia con la Croazia che vinceva 2-0, poi si è fatta rimontare nel finale prendendo questo pareggio, ma a fare notizia è la furia oltre ancora una volta dei croati. Qualche giocatore si è anche lamentato dicendo che a queste condizioni forse basta giocare a calcio per la propria nazionale? Qualche anno fa quando ci fu il disastro dell'Aise, la UEFA prese provvedimenti importanti per le squadre inglesi. Io penso che non bisogna dare gli avvertimenti, bisogna agire perché questa gente deve rimanere a casa e non può, come è successo la partita di Coppa l'anno scorso a Roma, non possono distruggere delle città, dei beni culturali e quant'altro e farsi male tra di loro. La cosa che sorprende di più è che la Francia si dice che è un bunker, che non entra nessuno, che sono sotto osservazione per gli attacchi terroristici, se gli hooligans fanno questo, se arriva lì, cosa succede? Come è già arrivato? Quindi queste squadre, per quanto mi riguarda, andrebbero depennate immediatamente dal campionato, che poi la colpa non è né dei giocatori né degli allenatori, ma come fai a fermare questa gente? Quindi andrebbero eliminati immediatamente. Sicuramente non possiamo che essere d'accordo con te e per concludere Pino, abbiamo già detto in apertura che siamo qui all'Ido il Pontile che hai ormai da tanti anni, però facciamo una piccola parentesi, ti stai buttando sempre di più di questo settore, a breve ci sarà una novità qui a Vasto, te ne faccio parlare a te, della nuova iniziativa imprenditoriale sempre qui al mare. Lo stabilimento, io non sono partecipe in quel discorso, ma è stato rilevato da un mio socio e mia cognata, quindi stanno facendo un ottimo lavoro e proprio martedì si comincerà a montare questo stabilimento, anche perché hanno fatto l'atto notarile 20 giorni fa. Comunque non anticipiamo niente perché sarà una sorpresa. Sarà comunque qualcosa di livello, pochettino diverso da quello che c'è stato in questi anni, giusto? Assolutamente diverso perché per il turismo bisogna muovere e fare qualcosa, se no Vasto andiamo sempre dietro e quindi ci vogliono i giovani che hanno queste idee innovative. Sicuramente non fa più il caso mio perché ho i miei buoni 50 anni, però lo fanno bene quando sono giovani a fare queste attività. Come nella politica sono d'accordo sul ringiovamento perché i bravi giovani hanno una marcia in più perché i nostri giovani laureati stanno facendo la fortuna di tutto il mondo e quindi bisogna dargli spazio anche da noi. Bene, ringraziamo Pino, grazie a tutti voi, continuate a seguirci, buoni europei a tutti ma soprattutto boom, vasto web a tutti!